Salve a tutti i beatniks e agli appassionati di musica beat. Oggi in questo video vi farò vedere un disegno che ho realizzato con gli acquerelli e la penna sfera nera. Questo disegno raffigura una rana pescatrice in uno sfondo psichedelico. Ho intitolato questo disegno Trip Abissale come se questa rana pescatrice fosse in trip. Per fare questo disegno ho preso spunto da una copertina di un disco italiano di un complesso genovese, i Gleeman. Il disco porta il titolo del complesso, semplicemente Gleeman. Questa rana pescatrice infatti è presente nella copertina del loro disco. Il disco è uscito nel 1970 ed è un ottimo disco di rock psichedelico italiano con delle leggere influenze progressive. Qui a fianco, come ben vedete, c'è la mia firma by the Italian Beatnik. Per realizzare questo disegno ho prima dipinto lo sfondo con gli acquerelli colorati. Una volta lasciato ad asciugare ho incominciato ad abbozzare con la penna nera la rana pescatrice, ovvero questa creatura degli abissi. Ho poi colorato tutti i dettagli, anch'essi con gli acquerelli. Come ben vedete, la rana è stata colorata con gli acquerelli, cioè la parte interna dell'animale, e tutti i dettagli sono stati poi colorati con la penna nera. Guardate che bello questo disegno. A me piace tantissimo. Questo è un altro dei più belli che abbia mai creato. Come ho sempre detto, nei miei video in passato ho già creato disegni simili a questo e questo lo reputo ancora più bello degli altri che ho fatto finora. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto così come questo disegno che ho creato. Un saluto a tutti i beatniks e agli appassionati di musica beat. Grazie a tutti i beatniks e agli appassionati di musica beat.